La gamma Nails si distingue il mercato soprattutto per la qualità video che non è uguale. Abbiamo portato a sicurezza due soluzioni che mettiamo in comparazione tra loro, una telecamera Super Starlight e una tecnologia Color Maker. Sono due soluzioni differenti, adatte a due ambienti completamente differenti. La Color Maker per aree estremamente buie con poca luminosità. È una telecamera che mantiene la qualità del colore molto fedele al naturale anche in notturna, anche in quasi assenza totale di luce. Mentre la Super Starlight, dotata anche di ottica varifocal motorizzata, permette di avere un'ottima qualità notturna senza effetti di trascinamento e senza effetti di rumore.